Giovanni Legnini, quella di questa mattina è una prima riunione operativa dopo le regionali, le questioni sul tavolo? Sono molteplici, sabato abbiamo ricevuto l'atto di proclamazione degli eletti, questa mattina ci siamo riuniti, i consiglieri eletti, innanzitutto la costituzione dei gruppi, si costituiranno i gruppi in coerenza con l'appartenenza alle liste di provenienza, quindi ci sarà il gruppo EPT, ci sarà il gruppo Abruzzo in Comune, ci sarà il gruppo Legnini Presidente. In secondo luogo abbiamo discusso di questa ripartizione che era già nota, non ci aspettavamo grandi novità dalla Corte d'Appello, ma riteniamo che l'attribuzione dei seggi in misura così sproporzionata tra la nostra coalizione di liste e quella del Movimento 5 Stelle sia palesemente illegittima sotto il profilo della corrispondenza ai principi costituzionali di uguaglianza del diritto di voto, di rappresentatività degli eletti. Si è discusso solo della necessità di far sì che tra le opposizioni vi sia un accordo per far sì che quelle poche postazioni istituzionali che sono per statuto e per regolamento riservate ai gruppi di opposizione siano la risultanza di un accordo. Io mi muoverò, chiederò al Movimento 5 Stelle se intende seguire questa via oppure no. Questa mattina c'è stato il passaggio di consegna tra l'ex presidente Vicario Giovanni Lolli e l'attuale presidente della regione Marco Marsiglio il quale ha lanciato un appello alle opposizioni a lavorare insieme per la regione. Che tipo di opposizione sarà la vostra? Sarà un'opposizione tutta mirata a difendere gli interessi della nostra regione, a difendere i diritti degli abruzzesi. Un'opposizione seria, responsabile e intransigente. Questa sarà la nostra opposizione. Lavoriamo tutti insieme è un'espressione che non si addice a un organo elettivo democratico. Lavoriamo tutti insieme nell'interesse delle istituzioni. Ciascuno svolga il suo ruolo e noi svolgeremo quello di opposizione sempre avendo in mente le ragioni della nostra comunità regionale. Ciascuno svolga il suo ruolo e noi svolgeremo il suo ruolo e noi svolgeremo il suo ruolo.